Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Vi voglio ricordare che fino al 31 di marzo avrete diritto allo sconto del 30% su filtro gasolio, filtro olio, filtro clima e filtro aria tutta roba, tutto materiale Bosch. Oggi facciamo questo tagliando a questa Audi A3 2000 turbo di 750 vettura tra l'altro ancora sotto estensione di garanzia casa madre ma facendo e tagliando da noi la garanzia non decade quindi ricordatevi che se fate il tagliando presso la Bianco Auto la garanzia della casa madre non decade perché noi vi rilasciamo regolare fattura, contare i chilometri quindi la garanzia non decade tra l'altro se avete bisogno di un'auto istitutiva per portare da noi la macchina a fare il tagliando noi vi daremo l'auto istitutiva gratuita o se no in alternativa concordiamo un orario stabilito quindi se voi arrivate qua alle 8 del mattino noi vi faremo il tagliando alle 9 e mezza, 10 meno un quarto sarete già su una via del ritorno presso casa vostra, presso il vostro lavoro lo sconto del 30% è anche esteso a ammortizzatori, kit frizione, kit distribuzione, pompa acqua e cinghe servizi in più anche a dischi dei freni, pastiglie dei freni e spazio di tetto di cristallo quindi fino al 31 di marzo avete diritto a questo sconto della nostra campagna verso la Bianco Auto su tutti questi componenti che vi ho menzionato chiamateci per un preventivo al 0141 96 92 14 o al 345 060 86 80 anche con un messaggio whatsapp o a info.biancoauto.it quindi ricordatevi fino al 31 di marzo c'è questa campagna del 30% di sconto su tutti questi componenti ciao a tutti amici e alla prossima ciao a tutti